Musica Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con una speciale lezioni questa sera dedicato alle amministrative di Giulianova. Come sapete insieme a Pescara e Montesilvano, l'altro comune in Abruzzo con oltre 15 mila abitanti dove è previsto eventualmente il ricorso al secondo turno. Per questo comune, il comune di Giulianova, sono cinque i candidati a sindaco. Lo diciamo da subito, questa sera hanno raccolto il nostro invito, solo due dei cinque li andiamo subito a presentare. Sono Franco Arboretti, sostenuto da Cittadino Governante, Giulia Viva con Franco Arboretti e per Giulianova con Franco Arboretti. Sindaco, buonasera Arboretti e Pietro Tribuiani, il candidato del centrodestra appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Idea e Forza Italia. Buonasera anche a Tribuiani. Li avevamo invitati, ma purtroppo hanno avuto altri impegni, gli altri tre candidati, che comunque per correttezza citiamo, sono Gabriele Filipponi, candidato del Partito Democratico, l'ex Forza Italia, Iwan Costantini, appoggiato da movimenti civici e laici, verso Giulianova, Turismo e Giulianova in movimento, Iwan Costantini, sindaco, azione politica dell'altra Giulianova al centro della città e l'altro candidato è Mauro Di Crescenzo per il Movimento 5 Stelle. Ripeto, li abbiamo invitati, ci hanno ringraziato, ma avevano altri impegni, per cui questa speciale elezione di questa sera è dedicato a un comune importantissimo, come quello di Giulianova, ne parleremo con due dei cinque candidati, che ripetiamo, sono Franco Arboretti e Pietro Tribuiani. E allora, intanto iniziamo a conoscerci in qualche modo, iniziamo proprio da Franco Arboretti, mondo civico, cittadinanza in qualche modo attiva, dieci anni sul territorio, non è nuovo a queste competizioni amministrative, no Arboretti? Sì, in realtà l'associazione Il Cittadino Governante esiste da 15 anni, dal 2004, si è presentata alle elezioni nel 2009, quindi sono dieci anni che poi partecipiamo alla competizione elettorale per le comunali a Giulianova, quindi questa è la terza volta, la prima volta con una vista Il Cittadino Governante per cambiare, la seconda volta con due liste, la prima che era stata già, insomma, quella che si è presentata la prima volta, un'altra lista che sosteneva la candidatura e soprattutto il programma del Cittadino Governante che era per Giulianova, e questa volta, oltre a queste due liste che erano conosciute storicamente, c'è una terza lista che si chiama Giulia Viva. Queste tre liste danno la prova, diciamo, plastica del fatto che l'unica realtà civica che realmente ha una storia a Giulianova e che può essere chiamata quindi tale è quella del Cittadino Governante, perché appunto ha una storia di 15 anni e 10 anni di partecipazione alle consultazioni elettorali, quindi non c'è niente di inventato, come spesso accade, e come in questa tornata accade a Giulianova con il polo civico, fandomatico, diciamo noi, il polo civico, come accade spesso nelle elezioni che, perché purtroppo le leggi lo consentono, escono queste liste civette che nascono come funga la vigilia delle elezioni e finiscono subito dopo per meccanismi solamente, per obiettivi solamente di potere e null'altro. E poi magari ricompaiono cinque anni dopo, se servono o meno, cambiando anche addirittura schieramento, che è anche questo trasformismo, è un altro limite grossissimo della politica, che purtroppo anche Giulianova ha attecchito e non è una cosa bella per quanto riguarda proprio l'immagine della politica che riscuota appunto sempre meno, diciamo, consenso quando si fanno i sondaggi, proprio per questo motivo, insomma. Noi crediamo di essere veramente la novità proprio per dare una risposta a tutta quella che secondo noi è la patologia della politica e crediamo che ci siano tutti gli ingredienti perché si affermi a Giulianova con quello che noi proponiamo come stile, come stile proprio, insomma, nell'impegno, come programma, come valori, come obiettivi per la città, che insomma ci siano le possibilità perché si affermi finalmente la buona politica da una parte e dall'altra anche le scelte di buon governo perché poi dopo la politica deve effettuare le scelte di buon governo. E noi diciamo che la buona politica e quindi le scelte di buon governo devono nutrirsi di due ingredienti fondamentali l'onestà e quindi la moralità nella vita pubblica e dall'altra la competenza perché senza lo studio, senza la capacità di essere aggiornati, di avere un bagaglio culturale che è appunto la cultura politica aggiornata, non si ha il bagaglio, la cassetta degli attrezzi che serve per poter fare le scelte migliori e noi abbiamo sempre detto che è importante tanto è vero che la nostra associazione periodicamente organizza delle iniziative che chiamiamo Polis e sono iniziative in cui cerchiamo di dare un contributo al dibattito pubblico proprio per far crescere la cultura politica, abbiamo parlato di rifiuti, di urbanistica, di scuola, di economia proprio in questo senso per far crescere il dibattito in città e anche la consapevolezza di chi vuole fare politica a Giulianova. E veniamo a Pietro Tribuiani, candidato al centro-destra, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Idea e Forza Italia c'è stata una condivisione unanime sul suo nome, come nasce questa candidatura? Sì, la candidatura è nata negli ultimi sei mesi, praticamente è stato fatto il mio nome io sono parte del direttivo della Lega da due anni, della Lega Giulianova quindi ho iniziato questo percorso all'interno della Lega Giulianova non ho avuto altre tessere in passato, quindi non mi sono mai esposto politicamente pur avendo degli orientamenti e delle ideologie politiche, sempre di centro-destra e quindi è nata in modo spontaneo se vogliamo ma soprattutto avevamo deciso già lo scorso anno che il candidato sindaco doveva essere per Giulianova un candidato sindaco a tempo pieno questa era la prima caratteristica dopodiché ci voleva un candidato sindaco che per risolvere le problematiche di Giulianova un candidato sindaco onesto, competente, come ha detto il dottor Rapoletti ma io aggiungo anche capace, quindi la candidatura è finita sul mio nome perché mi presento a livello anche professionale quindi non ho un'esperienza politica come altre persone che si propongono ad amministrare la città ma ci tengo a precisare che ho comunque un curriculum professionale di tutto rispetto ho fatto per 15 anni, sono stato responsabile amministrativo e commerciale di due aziende giuliesi quindi da 20 anni a 35 anni a 35 anni ho iniziato la carriera professionale manageriale quindi ho lavorato per 4 aziende diverse, tutte società quotate in borse quindi ho fatto, praticamente ho gestito budget, ho gestito risorse ho raggiunto obiettivi importanti per 6 anni sono stato responsabile della sede di Roma della società MF Onivem, gruppo di classe editori Milano Finanza ero responsabile di tutto il centro-sud Italia quindi risultati raggiunti tangibili uniti alla competenza amministrativa e all'onestà, alla serietà sono sempre, diciamo, sono nato a Giulianova e ho vissuto sempre a Giulianova ho famiglie storiche di Giuliesi Tribuiani, un cognome molto conosciuto ho avuto uno zio che è morto 5 anni fa un religioso appassionato che ha amato Giulianova quindi la passione e l'amore di Giulianova mi ha portato a fare questa scelta sono onorato che la Lega in primis perché sono il candidato di espressione della Lega ma di tutto il centro-destro unito quindi mi sono veramente soddisfatto ho preso, diciamo, questo impegno non con esaltazione come hanno fatto altri ma io sento il senso del dovere perché mi sento responsabile e so che la cittadinanza di Giulianova si aspetta un sindaco che risolve i problemi quindi il mio obiettivo non è raggiungere o conquistare una poltrona ma cercare di risolvere e li risolveremo i problemi a Giulianova quindi questo è il mio obiettivo il mio impegno e quindi ringrazio chi mi ha dato fiducia e sono sicuro che se i cittadini mi daranno fiducia ripagherò anche la loro fiducia Vediamo prima di entrare nel merito dei temi, dei cosiddetti macrotemi dei problemi che riguardano insomma un comune così importante cerchiamo anche di inquadrare lo scenario politico che si è venuto a creare a Giulianova negli ultimi mesi al di là della scelta dell'ex sindaco Mastromauro di lasciare per candidarsi al Consiglio regionale ci sono stati mesi di commissariamento ecco come si è sviluppato questo scenario politico che ha portato in qualche modo lo ricordiamo a questa situazione ricordiamo 16 liste 234 candidati ma soprattutto 5 candidati a sindaco senza coalizioni al di là dell'esperienza di Tribuiani senza coalizioni ben definite Arboretti Ma io partirei da una constatazione Giulianova purtroppo è veramente in piena decadenza e mi dispiace molto diciamo constatarlo da Giuliese insomma innamorato della propria città Noi nascemmo proprio per contrastare la decadenza che già si era avviata con il primo diciamo con i due governi di centrodestra dal 95 fino al 2003 che è poi una fase che si è concluso con una rissa intestina nel mondo del centrodestra in quella fase appoggiammo inizialmente senza essere presenti in Consiglio il mondo progressista quindi la candidatura del centrosinistro del 2004 ma diciamo il discostarsi dagli impegni programmatici nelle pratiche di governo insomma che ci sono state all'epoca ci portò appunto ad allontanarci ad esprimere un parere critico e costruttivo ovviamente nel corso del tempo questo quindi nel corso del tempo si è aggravato e la decadenza Giuliese è purtroppo sotto gli occhi di tutti sotto tanti profili ne parleremo magari quando parliamo del programma riprenderemo uno per uno i vari aspetti ma questo ha comportato che noi continuassimo ad esserci e se vogliamo tornare alla domanda sua noi parliamo all'interno letteralato Giuliese ovviamente ci rivolgiamo a tutti perché diciamo governare il buon governo sicuramente fa il bene di tutti i cittadini ed è questo quello che noi vogliamo rivolgendici appunto a tutti la nostra estrazione culturale e politica è comunque quella del mondo progressista e ambientalista per cui si è tentato anche sulla base di un ragionamento per vedere un po' di semplificare diciamo la proposta politica Giuliese se il mondo progressista era intenzionato a seguire quello che noi abbiamo detto per tanti anni avendo ragione perché poi insomma c'è stato un risultato elettorale alle politiche alle regionali molto molto deludente ma tutto sommato è stato sicuramente causato dal mal governo che c'è stato e abbiamo detto tutto quanto questo si può realizzare cioè un'eventuale alleanza sulla base di una forte discontinuità programmatica e politica altrimenti ovviamente non è possibile insomma oltre tutto a noi non interessa ma non capirebbe nemmeno l'elettorato nove anni di opposizione in consiglio comunale bisogna in qualche maniera spiegare poi dopo come mai si mette in piedi un'alleanza non è stato possibile segnatamente diciamo in particolare per il PD che non ha voluto accettare questo tipo di prospettiva e noi siamo lì per questo dopodiché constatiamo che il mondo del centrodestra come è stato poco fa ricostruito si è spezzato in due tronconi e noi comunque diciamo questo dal nostro punto di vista che lì finora non sono venute divergenze programmatiche ma sono venute solamente divergenze legate al fatto di chi dovesse occupare la poltronia di candidato Sino quindi questioni di potere che non hanno niente a che fare con gli aspetti programmatici adesso di chi è la responsabilità questo è un discorso che devono vedere nel loro ambito però risulta a chi vuole osservare in maniera attenta la politica giuliese che è un problema di potere poi l'altra forza politica presente quella dei 5 Stelle che insomma mi pare che stia un pochettino diciamo riducendo il suo diciamo il suo appeal nel mondo giuliese e comunque c'è una sua piccola storia che la volta scorsa è stata presente e questo è quello che appare in questo momento sulla scena giuliese Tribuiani Sì lo scenario sicuramente non è non è bello Giulianova vedere tutti questi candidati e tutte queste liste è veramente secondo me indegno per una città una cittadina come Giulianova e con la problematica che ha Giulianova i problemi di Giulianova penso che ormai li conosciamo tutti riconoscono bene i cittadini giuliesi che ci vivono ogni giorno però sembra che le persone alcune persone alcuni candidati sindaci o molti candidati che hanno dato a loro disponibilità a candidarsi in queste liste secondo me fanno finta di ignorarle oppure presi dall'entusiasmo pensano di poterli risolvere con il loro impegno in realtà è tutta una strategia messa in atto da persone che fino a poco tempo fa andavano a Strasburgo a parlare con i loro referenti politici e quindi si facevano si mettevano in bella mostra dicendo di far parte di un partito della coalizione di centrodestra dopodiché nel momento in cui questi partiti o il partito il suo partito gli dice gli dà delle indicazioni prende un'altra strada e miracolosamente tutti i candidati diciamo se li ritrova in sé liste allora questo era tutto studiato a tavolino quindi è una è una vera strategia di portare a casa i voti dei parenti di amici di amici quindi avere 96 candidati in sé liste civiche di una di non mi sembra che sia moralmente corretto questa è una mia opinione lo schieramento io faccio parte dello schieramento di centrodestra dei quattro partiti ufficiali quindi ricordiamolo che sono Lega Forza Italia Fratelli d'Italia quindi siamo in linea con quello che è il governo della regione quindi l'elettorato intravede in questa coalizione il vento del cambiamento perché oggi c'è lo slogan del cambiamento non c'è una coalizione una lista che non vuole cambiare per me già dire cambiamento vuol dire non avere fissato bene l'obiettivo perché il cambiamento secondo me io lo vedo in tutti gli schieramenti però in peggio se vado a vedere i miei concorrenti perché da una parte vedo comunque anche se c'è coerenza lo ammetto però comunque c'è una riproposizione del vecchio che non ha funzionato dall'altra parte c'è un cambiamento ma dato solo dall'inesperienza dall'esaltazione di chi fino a poco tempo fa veniva a mettersi in mostra quando sono venuti a Giulianova il presidente della regione Marco Marsiglio all'ospedale si faceva fotografare è venuto Matteo Salvini è venuto a cena quindi la cena di Matteo Salvini poi l'indomani nel momento in cui la scelta di candidato sindaco non è caduto sulla sua persona si tira fuori e dichiara che sono poteri forti noi non siamo poteri forti siamo una squadra coerente con un'ideologia con un pensiero quindi noi non siamo io uno dei problemi di Giulianova purtroppo che abbiamo avuto è stato un sindaco che ha messo la sua persona prima di ogni altra di ogni altra ideologia o di ogni altra azione noi siamo vince la squadra infatti io metto ogni mattino questo braccialetto proprio perché io sono il capitano di una squadra molto più ampia che parte da Giulianova ma arriva fino al governo della regione fino ad arrivare al governo centrale e allora entriamo nel merito del nostro appuntamento cerchiamo di focalizzare quelli che sono i problemi principali della città di Giulianova prima Arboretti parlava di decadenza ma su temi ad esempio citiamo il primo quello che mi viene in mente considerando Giulianova come uno dei centri turistici più affascinanti della costa abruzzese la lunga storia di Giulianova anche pensando a Giulianova alta alle origini degli Acquaviva e quant'altro quindi una città che potrebbe offrire molto sotto l'aspetto turistico a che punto siamo da questo punto di vista ma se mi permette io faccio una brevissima introduzione rispondendo a quello che ha detto poco fa il candidato qui a fianco Tribuiani e cioè quando ha detto alludendo a noi che noi riproponiamo ricette vecchie sinceramente noi dovremmo dire un attimo che il cambiamento non lo rappresenta né il troncone diciamo che fa diciamo attrazione leghista di cui lui è candidato né il troncone di centrodestra rappresentato dal candidato Costantini nel cosiddetto polo civico di cui si è parlato finora perché comunque contengono addirittura pezzi di centrodestra che è stato messo alla prova abbondantemente dal 95 al 2003 soprattutto nel mondo diciamo della coalizione di Tribuiani e pezzi e anche pezzi di centrosinistra che hanno governato fino all'altro ieri a Giulianova diciamo ex assessori o comunque esponenti di quella maggioranza e lo stesso discorso accade nel polo civico alto troncone di centrodestra dove ci sono due assessori addirittura e il capogruppo del PD quindi come fanno a parlare di cambiamento coloro che hanno preso pezzi di potere del centrosinistra tanto criticato e li hanno messi dentro per cercare di prendere consenso sono operazioni di potere e adesso veniamo al programma perché noi riteniamo invece che il nostro programma è assolutamente innovativo proprio perché noi abbiamo in mente una nuova idea di città che si nutre delle conoscenze più moderne della cultura politica insomma tutti quanti abbiamo ci siamo commossi nel vedere il 15 marzo questo sciopero mondiale degli studenti per quanto riguarda il problema del riscaldamento del pianeta e quindi le problematiche legate ai mutamenti climatici ecco questo significa avere nella cassetta degli attrezzi la conoscenza per quale motivo poi dopo nel mondo e quindi anche nelle città perché insomma pensare globalmente agire localmente è uno slogan ambientalista ma che torna tuttora molto utile per quale motivo bisogna fare scelta anche nelle città che diano una mano a questo discorso dei cambiamenti climatici per dirne una insomma per quale motivo bisogna parlare di economia sostenibile che è quella che non fa le fiammate di 10 anni e poi tutto finisce invece è capace di durare nel tempo garantendo attività economiche d'occupazione e reddito per quale motivo bisogna parlare di strategie rifiuti zero rispetto alla problematica dei rifiuti e poi ne parleremo per quale motivo bisogna ragionare nella gestione del territorio in termini di riduzione del consumo di territorio e rigenerare invece ciò che esiste già di diciamo di rigenerazione urbana dell'esistente magari tornandoci su abbattendo e ricostruendo magari anche con maggiori indici per riqualificare zone ormai degradate e comunque sottodorizzate questa è la nuova cultura oppure la cultura della manutenzione Giulianova è purtroppo nel degrado più totale il decoro a Giulianova ne abbiamo fatto oggetto per un'iniziativa nel novembre scorso al curso di Giulianova con veramente la sala piena perché abbiamo posto un problema vero Giulianova in questo momento non c'è decoro non c'è pulizia non c'è la manutenzione che salta gli occhi diciamo appena uno entra in città è una città turistica non c'è cura degli spazi verdi dei giardini dei parchi non ci sono fiori sul lungomare cioè voglio dire sono quelle cose che insomma sono importanti ecco la cultura della manutenzione è la nuova frontiera per quanto riguarda le opere pubbliche perché prima di fare nuove opere pubbliche occorre mettere in bilancio poste che garantiscono ogni anno costantemente la manutenzione questa è la novità culturale che guida e ispira il nostro programma altro che vecchio quindi cultura della manutenzione come strumento anche per agevolare e sviluppare il turismo Tribuiani allora innanzitutto una piccola precisazione quindi ci tengo sottolineare noi non siamo per lo slogan del cambiamento ma infatti ho scritto Tribuiani sindaco per migliorare Giulianova quindi il cambiamento è solo uno slogan elettorale noi abbiamo le idee chiare quindi fissiamo anche in modo chiaro l'obiettivo quindi noi vogliamo migliorare Giulianova perché cambiare la possiamo la cambieranno sicuramente tutti gli schieramenti chi riproponendo qualcosa e quindi magari peggiorando una situazione chi magari avvicinandosi al dissesto finanziario perché qui si fa politica ma mi rivolgo in generale soprattutto a persone che oggi sono assenti e mi dispiace perché avrei proprio avuto il piacere di avere delle risposte perché ci sono delle situazioni delle situazioni molto ambigue all'interno di quelle liste dove probabilmente quel cambiamento è avvicinarsi al dissesto finanziario siccome la situazione di Giulianova ripeto è critica anche a livello di finanze quindi sarebbe da irresponsabili buttarla sulle promesse elettorali per poi non poter realizzare nulla quindi noi non siamo noi abbiamo fatto un programma l'ho scritto io di pugno non ho fatto copia in colla non è arrivato il suggerimento da nessuna da nessuna parte della provincia quindi i punti che abbiamo sottoscritto nel bilancio sono tutti punti realizzabili noi abbiamo suddiviso il nostro programma in tre diciamo tre step le cose che si possono fare nell'immediato quindi subito a breve termine gli obiettivi a medio periodo e gli obiettivi di lungo periodo addirittura abbiamo ipotizzato anche quello che potrebbero essere gli obiettivi nel secondo mandato noi siamo convinti che il nostro schieramento sia quello vincente in questo momento perché è in linea con l'orientamento e con il governo della regione quindi avere l'amministrazione del comune di Giulianova che parla la stessa lingua della regione sarebbe un grosso aiuto quindi perché non nascondiamocelo non nascondiamocelo che comunque in passato purtroppo Giulianova ha avuto sempre l'amministrazione di un colore e la regione di un altro colore e quindi in politica sappiamo come funzionano queste cose non significa che ci sono favoritismi significano semplicemente che avere persone al governo della regione che ragionano e che dialogano e che hanno degli obiettivi che sono in linea con gli obiettivi delle amministrazioni comunali perché non dimentichiamo che le amministrazioni comunali si va sempre più verso il decentramento amministrativo per cui le risorse dei comuni sono sempre limitati e per cui bisogna gestirle bene quindi l'indirizzo l'indicazione del ministro degli interni Mattia Solvini è quello che vuole avere dei candidati che siano preparati capaci ad amministrare e fare bene perché noi non vogliamo governare non vogliamo la poltrona del sindaco ma vogliamo governare per il futuro quindi siamo la forza che avanza con le idee chiare della politica del fare quindi questo è il nostro obiettivo quindi noi faremo poche promesse ma quei pochi punti che noi promettiamo noi li faremo bene noi ci dobbiamo fermare per una prima breve pausa pubblicitaria subito dopo cerchiamo di entrare però ancora più nel concreto ho introdotto il tema del turismo questo lo approfondiamo magari cercheremo di svilupparlo meglio subito dopo la pausa pubblicitaria tra poco seconda parte del nostro speciale lezioni dedicate all'amministrativa di Giulianova lo ribadiamo sono cinque candidati a sindaco hanno raccolto il nostro invito questa sera solo due dei cinque sono Franco Arboretti sostenuto da cittadino governante Giulia Viva con Franco Arboretti e per Giulianova con Franco Arboretti sindaco e il candidato al centro-destra Pietro Tribuiani appoggiato da Lega Fratelli d'Italia Idea e Forza Italia abbiamo iniziato in qualche modo ad affrontare i temi caldi per quanto riguarda la città di Giulianova si è parlato di una città in decadenza si è parlato anche di una città da amministrare con certa attenzione per quel che riguarda le casse comunali si è parlato anche in qualche modo dell'importanza della cultura della manutenzione avevamo accennato il discorso e qui vorrei entrare davvero nel dettaglio con i nostri candidati il discorso del turismo perché Giulianova lo ripetiamo è uno dei centri rivieraschi più importanti della costa abruzzese una lunghissima storia addirittura dal tempo dei romani ma una storia che si è sviluppata molto intorno al 1400 con l'arrivo degli Acquaviva e poi che si è sviluppata nell'800 anche sulla costa con lo splendido centro rivierasco di Giulianova insomma tanto da raccontare ai tanti appassionati di viaggi e quant'altro come raccontare la suggestiva storia di Giulianova e quindi in qualche modo affrontare e sviluppare e migliorare il tema del turismo Arboretti iniziamo da lei sì dunque Giulianova ovviamente nel turismo uno dei segmenti dell'economia sicuramente il principale non è solamente quello perché poi parleremo ancora di economia ci sono anche altri settori che bisogna assolutamente seguire e sono il mondo dell'agricoltura della pesca dell'artigianato del commercio e della piccola industria e quindi insomma ci sono tante cose da fare perché per fortuna Giulianova da sempre ha una vocazione multisettoriale nel senso che non si è solamente fossilizzata su un segmento che poi magari si va in crisi crolla tutto invece è multisettoriale stiamo al turismo adesso perché è un segmento importantissimo e noi riteniamo che intanto l'ingrediente fondamentale per una città che vuole fare turismo balneare come è quella di Giulianova il fondamentale contributo che può dare a questo settore così importante dell'economia un'amministrazione sensata è quella di contribuire a preservare le bellezze ambientali paesaggistiche naturalistiche che esistono diciamo nel nostro territorio e Giulianova ne è veramente fornito perché ha scorci panoramici incredibili noi abbiamo la possibilità di vedere dal mare andando su uno dei moli di Giulianova la parte del Lido la collina il centro storico e poi dietro le vette innevate del Gran Sasso cioè ci sono abbiamo delle foto Giulianova che fanno vedere tutto quanto questo in un colpo d'occhio unico quindi Giulianova ha scorci panoramici bellissimi che andrebbero tutelati preservati e ovviamente nel tempo questa bellezza ambientale conferisce una qualità che ci fa essere competitivi ed attrattivi ovviamente rispetto ad altre realtà tutto quanto questo è seriamente minacciato Giulianova perché noi vediamo all'orizzonte soprattutto per quanto riguarda il mondo del polo civico di cui si è parlato ma purtroppo qui oggi non c'è il rappresentante se no magari ci potremmo anche confrontare più direttamente ma seriamente minacciato come una grande colata di cemento che si sta per abbattere su Giulianova quindi mettiamo in guardia i cittadini giuliesi non è quella la via per poter mettere in condizioni il nostro turismo di essere appunto vincente seriamente competitivo con gli altri della costa adriatica e anche internazionale perché ormai il turismo internazionale si fa facilmente perché è anche competitivo sotto il profilo economico allora noi dobbiamo essere attrezzatissimi questo è il primo aspetto Giulianova ha bisogno assolutamente lei parlava delle radici di 2000 anni una storia di 2000 anni Giulianova da Castrum nuovo ma poi la Giulianova rinascimentale del centro storico bene il centro storico di Giulianova è uno dei centri storici più belli oltretutto anche avendo a che fare con scuole importanti quelle della città ideale di Giorgio Martini lì bisognerà ritornare perché il nostro centro storico purtroppo non è in forma smagliante come dovrebbe essere e lì noi lavoreremo seriamente per riportare residenza qualità manutenzione opere pubbliche fatte per bene e quindi questo aiuterebbe molto poi il turismo ha bisogno di grandi iniziative di livello nazionale per quanto riguarda la cultura lo spettacolo per poter portare il turismo culturale aiutare il turismo religioso che già c'è e comunque va anche diciamo accresciuto e poi organizzare anche meglio il settore del turismo coordinando gli operatori del settore e questo è l'impegno che noi prenderemo le proposte sul turismo Tribuiani Sì Allora noi partiamo sempre dalla considerazione che effettivamente Giulianova come la definiva D'Annunzio è una perla quindi Giulianova però questo è dobbiamo ringraziare il Padre Eterno che ci ha collegato in quella posizione geografica bellissima dove effettivamente c'è una vista dal porto soprattutto si spazia tra le colline fino ad arrivare al Gran Sasso quindi è una posizione sicuramente invidiabile la migliore posizione di tutte le cittadine costiere della provincia di Teramo quindi partiamo in una posizione di vantaggio e questo però è un dato e poi c'è il riscontro dei numeri dei dati di fatto che effettivamente Giulianova soprattutto negli ultimi anni c'è stata e questo nessuno lo può negare una decadenza veramente avvilente e quindi noi a livello di programma per noi il turismo è il volano dell'economia giuliese ovviamente non è solo il turismo per far ripartire l'economia giuliese si deve innescare una serie di interventi ma su tutti i settori quindi bisogna agire contemporaneamente su tutti i settori però è chiaro che il turismo a Giulianova riveste un ruolo molto importante importantissimo quindi noi abbiamo predisposto diverse misure innanzitutto abbellire la città quindi costruendo anche realizzando dei portali di accesso da qualsiasi parte si entra a Giulianova quindi dobbiamo abbellire e faremo dei portali con un concorso di idee dopodiché dobbiamo valorizzare bene tutte le principali diciamo zone di pregio di Giulianova che parliamo della spiaggia perché chi viene a Giulianova vuole il mare quindi spiagge attrezzate spiagge pulite ordinate sicure quindi il lungomare deve essere un lungomare fiorito attualmente brullo cioè è tutto piatto quindi quindi sì Giulianova ha bisogno di decoro quindi il decoro è per noi un punto di partenza nel nostro programma è uno dei principali punti che si può realizzare a breve periodo quindi il turista che viene a Giulianova si aspetta di trovare dei servizi quindi bisogna anche variare l'offerta turistica uno dei nostri punti del nostro programma importante è quello di rivalorizzare il centro storico di allestire delle sedie per dei musei delle mostre d'arte a Giulianova ci sono tanti reperti archeologici o tanti artisti anche locali che hanno diciamo le loro opere abbandonate in posti più disparati e quello è una un grave handicap che per la città perché chi viene a Giulianova deve conoscere non solo la spiaggia o il mare il sole ma deve conoscere anche la storia della nostra cittadina quindi noi puntiamo a rivitalizzare il centro storico quindi a diversificare l'offerta turistica e nel mio disegno c'è anche quello di coinvolgere anche i comuni limitrofi a Giulianova proprio per creare un evento che abbia carattere più grande di locale per far conoscere non solo Giulianova ma tutto il territorio della provincia di Termo che è bellissimo che spazia dal mare le colline fino al Gran Sasso quindi diversificare l'offerta certo e allora veniamo a un altro tema lo avevate accennato nei vostri interventi precedenti ma vorrei affrontarlo nel dettaglio l'aspetto se vogliamo finanziario sappiamo tutti che i comuni vivono una situazione delicata soprattutto dopo gli ultimi anni di crisi e quant'altro da questo punto di vista le vostre proposte su due temi in particolare ovvero la capacità di attrarre finanziamenti anche immagino europei e soprattutto il tema molto caro ai cittadini quello tributario quali sono le vostre proposte Arboretti? ma dunque innanzitutto noi diciamo che noi abbiamo seguito per nove anni dall'opposizione diciamo tutti i passaggi che riguardavano il bilancio bilancio di previsione o bilancio consuntivo delle varie annualità quindi conosciamo perfettamente come sono le condizioni finanziarie del nostro comune sappiamo perché lo abbiamo già fatto abbondantemente in tutte queste tornate insomma in cui i nostri interventi andavano sempre oltre il tempo consentito perché insomma le carte ce le leggevamo studiavamo e analizzavamo gli aspetti ovviamente critici e i suggerimenti da dare quindi abbiamo le carte in regola in termini di consapevolezza di quello che è il bilancio di Girono e questo conta molto perché molte volte se si viene eletti bisogna essere attrezzati per poter subito mettersi al volante e cominciare a fare le prime operazioni avendo conoscenza se non c'è questa conoscenza è difficile perché si parta subito magari c'è quella fase iniziale che insomma fa perdere tempo e quindi questo non va bene per quanto ci riguarda questo sicuramente non succederà a Giulianova si spendono quasi 30 milioni di euro all'anno di spesa corrente e spesa per i mutui quota capitale e quota interessi noi riteniamo noi riteniamo che con una seria politica delle entrate e una spending review fatta sulla spesa pubblica giuliese del nostro comune sicuramente quei 30 milioni di euro circa potrebbero essere utilizzati molto meglio molto ma molto meglio per cui ovviamente ci sono si risente dei tagli centrali e così via insomma c'è un problema di crisi finanziaria dei comuni però quelle risorse date si possono utilizzare in maniera diversa e questo lo abbiamo sempre dimostrato con i nostri interventi puntuali e sappiamo quello che occorrerà fare dopodiché è ovvio che sul fronte delle entrate bisogna cominciare anche a vedere quello che c'è in termini di illusione ed evasione fiscale locale perché questo significa diciamo pagare tutti per pagare meno per esempio e sul fronte delle entrate bisognerà seriamente fare una sorta di diciamo di ufficio anzi è un ufficio che noi prevediamo serio competente preparato attrezzato perché lì ci vogliono i saperi che veramente sanno dove mettere le mani per poter fare progetti e per poter chiedere finanziamenti regionali nazionali e soprattutto europei e tutto quanto questo sicuramente potrà arricchire le casse comunali se però si sa muovere noi dobbiamo sapere che quando si dice che l'Italia e l'Abruzzo in particolare non riesce ad utilizzare gran parte dei fondi europei messi a disposizione che noi come nazione come Stato come Paese Italia diamo all'Europa e poi non riusciamo a riprendere allora lì c'è bisogno di tutti gli enti locali o lo Stato stesso o le regioni stesse che facciano il proprio dovere Giulianova farà per quello che gli sarà consentito sicuramente il proprio dovere se noi governeremo la città perché sappiamo come fare e quindi lì possono arrivare nuovi introiti che si aggiungeranno ai famosi 30 milioni di euro che stiamo dicendo e che un po' sono le entrate storiche nel nostro bilancio e poi ovviamente bisognerà attrezzare meglio la macchina amministrativa perché la macchina amministrativa significa poi dopo poter utilizzare al meglio dopo che c'è l'indirizzo della politica perché la legge questo prevede i politici devono essere capaci di indirizzare di fissare gli obiettivi sulla base su base programmatica e poi la macchina diciamo amministrativa è quella che gestisce ma bisogna crearla all'altezza della situazione e questo va fatto assolutamente con urgenza Giulianova Rubiani la gestione delle finanze Giulianova sì allora la gestione delle finanze è un aspetto molto delicato e effettivamente è ruota tutto tutto lì perché poi alla fine come si dice da noi le chiacchiere se le porta il vento quindi ci vogliono i soldi ci vogliono quindi e saperli gestire la mia candidatura e ritorno quindi anche lì fa parte anche di diciamo riveste un ruolo importante quello che è stato il mio trascorso l'ultima azienda per cui ho lavorato comunque negli ultimi 15 anni molti forse non lo sanno ma gestisce una banca dati pubblici soprattutto rivolte agli enti anche agli enti locali tra cui comuni quindi nel mio esperienza professionale ultima c'è stata proprio quello di ho approcciato diversi enti diversi comuni in diverse zone del centro sud d'Italia dove avevamo abbiamo delle proposte per aiutarli a combattere ad esempio l'evasione fiscale è un problema sentito perché le entrate ormai sono fisse sono quelle bisogna gestire bene le risorse quindi il comune va gestito come se fosse un'azienda io ci tengo a ribadire questo perché qui si parla di elezioni amministrative se si chiamano amministrative ci sarà un motivo non sono quindi le elezioni politiche quindi qui la politica passa in secondo piano qui contano le capacità dei futuri sindaci e degli amministratori che hanno un ruolo importantissimo l'indirizzo politico economico sui dirigenti ad esempio quindi la politica passa per la gestione oculata delle risorse che deve essere fatta secondo l'amministratore del buon padre con la diligenza del buon padre di famiglia si possono attivare circoli virtuosi nel momento in cui io riesco a spendere bene i soldi e quindi fare economia di scala e quindi gestire le risorse per avere altri imbieghi che altrimenti non riusciamo mai a uscire da questi impasse cioè se io costruisco la mia squadra mi rivolgo a queste famose seri ste civiche dove già le poltrone sono state assegnate e il sindaco si trova domani si trova a dover gestire a rispondere a tutte le promesse dei vari appaltatori dai vari assessori dai vari ai vari consiglieri cioè come si fa a governare una città in questo in questo modo quindi io sono partito sono partito senza fare promessi a nessuno non abbiamo fatto nessun tipo di promessa ma semplicemente la mia candidatura ho messo subito le carte in tavola sarà fatta secondo la diligenza del padre di famiglia quindi queste sono le mie competenze le mie qualità la coalizione ha accettato questa impostazione questa politica ha capito che a Giulianova non si può più scherzare ci vogliono persone serie e professioniste quindi io ho aiutato aziende ad intercettare fondi europei ho aiutato aziende pugliesi quindi come consulente della società per intercettare i fondi non bastano gli slogan come ho sentito in giro ma bisogna avere dei progetti quindi nel momento in cui c'è un progetto serio questo progetto viene premiato perché i fondi non cadono a pioggia ma vanno a chi sa meglio progettare e realizzare un determinato tipo di strategia di obiettivo di impresa quindi bisogna lavorare in modo serio ultima pausa pubblicitaria abbiamo affrontato il tema delle finanze in qualche modo ci fanno da gancio a un altro tema importante finanze tributi tari rifiuti e allora partiremo da lì sulla gestione lo smaltimento dei rifiuti a Giulianova subito dopo la pubblicità ultima parte del nostro speciale elezioni dedicato alle amministrative di Giulianova lo ricordiamo Giulianova è il terzo comune oltre a quelli di Montesilvano e Pescara dove si andrebbe al secondo turno al ballottaggio perché supera i 15.000 abitanti e allora abbiamo in studio due dei cinque candidati a sindaco sono Franco Arboretti sostenuto da cittadino governante Giulia Viva con Franco Arboretti e per Giulianova con Franco Arboretti sindaco e Pietro Tribuiani candidato del centrodestra appoggiato da Lega Fratelli d'Italia Idea e Forza Italia non hanno accolto il nostro invito altri tre candidati Gianni Filipponi candidato del Partito Democratico Iovan Costantini appoggiato dal 6 liste civiche Mauro Di Crescenzo per il Movimento 5 Stelle nella seconda parte ci siamo salutati parlando di gestione finanziaria del comune di Giulianova in qualche modo anche di temi legati ai tributi parlando di tributi uno dei tributi più sentiti dalla popolazione è quello dell'Atari allora affrontiamo il tema della gestione dello smaltimento dei rifiuti a Giulianova qual è la situazione attuale e come si può migliorare Aboretti Dunque quella della gestione dei rifiuti è un problema serio perché dobbiamo ricordare che il costo di gestione dei rifiuti a Giulianova è sempre da anni intorno ai 6 milioni di euro cioè un quarto circa della spesa corrente quindi è un problema grosso da affrontare perché dovunque si è fatta una buona raccolta differenziata e in questo senso Giulianova la fa ormai si è attestato intorno al 65-70% da alcuni anni dovunque però questo è accaduto si va nel corso del tempo generalmente si calcono in 4 anni mediamente si va verso l'addimezzamento la riduzione comunque della spesa per la gestione dei rifiuti a Giulianova questo non accade e quindi evidentemente c'è qualcosa da fare una delle cause è il fallimento del polo tecnologico del CIRSU questo consorzio tra comuni che comprendeva non solo Giulianova ma altri comuni vicini in Mociano e così via il fallimento paradossale perché chiunque opera in un settore della green economy dell'economia verde e cioè quella della gestione dei rifiuti tranquillamente fa business in Italia i privati che ci si lanciano tutti quanti stanno in ottima salute purtroppo è stato condotto tutto quanto molto male specialmente negli ultimi 10 anni tanto che alla fine c'è stato il fallimento di CIRSU questo cosa ha comportato ha comportato il turismo dei rifiuti noi per conferire l'organico siamo andati addirittura in regioni come l'Emilia Romagna questo comporta che c'è una spesa di trasporto non indifferente quindi nel corso del tempo la chiusura della filiera la raccolta differenziata a cosa serve? serve ad avere materie prime e seconde che vengono riutilizzate al posto delle materie prime della plastica la carta l'alluminio e così via tutto quanto quello una volta che è stato raccolto e poi dopo avviato agli impianti di trattamento prima di poter essere riutilizzati va avviato alle filiere finali per poter poi dopo essere riciclato allora noi proponiamo per esempio a Giulianova parlando di economia perché ci si aggancia perfettamente un discorso di economia circolare per quale motivo nel nostro territorio non possono nascere piccole industrie o artigianate legate al riciclo ci sono cartieri ci sono tante attività nel territorio italiano che appunto funzionano perfettamente creano nuova economia ed è un'economia che oltretutto è duratura nel corso del tempo perché comunque i rifiuti bisognerà sempre trattarli e a quel punto tu hai messo in piedi delle piccole industrie che nel tempo avranno sicuramente vita e duratura creeranno occupazione reddito e così via e questo cosa porterebbe lei ha introdotto il tema appunto dell'Atari perché ovviamente la legge prevedendo il finanziamento al 100% a carico dei cittadini se il costo è 6 milioni di euro è ovvio che dobbiamo ripartire tra i cittadini con carichi in questo momento molto pesanti specialmente per i settori economici sono al massimo praticamente le tariffe allora lì se noi comportiamo una riduzione nel corso del tempo organizzando tutto quanto diversamente e si può fare e si può fare avendo una contezza allora lì porteremo un dimanziamento dell'Atari ma questo avrebbe un grosso sollievo sarebbe per le famiglie ma anche per le attività economiche Genova sono veramente cioè c'è una grande sofferenza nelle attività commerciali per esempio insomma bisognerà trovare il modo per alleviare le tasse i tributi locali e in particolare appunto l'Atari solamente però riorganizzando diversamente la gestione dei rifiuti e si può lì abbiamo tante proposte in merito Tribuiani sì il tema dei rifiuti effettivamente è un tema molto sentito anche perché rappresenta un quarto quindi 25% circa del bilancio del comune di Giulianova quindi impiega tante risorse i cittadini pagano la tariffa più alta abbiamo fatto delle verifiche anche delle comparazioni con dei comuni limitrofi o comunque che abbiano delle caratteristiche come Giulianova esempio è venuto fuori in questa comparazione e lì siamo rimasti o rifatto i calcoli un paio di volte ad esempio che i cittadini cioè il comune di Giulianova paga per i rifiuti quando paga il comune di Campobasso quindi con una popolazione che è tripla rispetto a Giulianova che è una superficie nettamente più più grande con un territorio anche più complicato è più difficile quindi allora uno si chiede ma come mai quindi i cittadini pagano una tariffa tra le più alte in Abruzzo per avere poi qual è il risultato il risultato che poi vediamo che la città è sporca che i cestini sono strapieni vengono svuotati a giorni non tutti i giorni ad esempio questa è un'altra cosa che noi cercheremo ovviamente di migliorare e di fare cioè quello dello svuotamento costante giornaliero dei cestini si verifica spesso d'estate nel lungomare di vedere i cestini vuoti persone che mangiano anche all'aperto perché d'estate c'è chi va al mare i pendolari che quindi rimangono sulle zone del lungomare mangiano non sanno dove mettere i rifiuti quindi vengono i cestini sono pieni non vengono svuotati e la città diventa sporca quindi è un controsenso quindi paghiamo un altro controsenso un altro paradosso è che Giulianova è stata la città più riciclone d'Abruzzo allora mi chiedo ma se paghiamo la tariffa più alta siamo i più ricicloni quindi dovremmo spendere di meno perché se io conferisco meno alle discariche allo smaltimento quindi vuol dire che il comune paga meno per conferire questi rifiuti quindi dovremmo risparmiare di più quindi ci chiediamo come mai le tariffe allora sono tra le più alte quindi le risposte probabilmente le sappiamo ovviamente il nostro intento è quello di risparmiare in primis per far risparmiare ai cittadini giuliesi delle risorse che poi non dimentichiamoci che Giulianova un'altra risorsa sono anche quelle delle seconde case c'è anche chi ha la seconda casa e paga una tassa dei rifiuti esagerata con un numero minimo di occupanti che in realtà non c'è quindi anche lì abbassando la tassa dei rifiuti ovviamente diventa anche più appetibile per chi vuole investire a Giulianova e quindi trovare più e quindi sviluppare tra virgolette anche il mercato in modo sano risparmiando il mercato immobiliare delle seconde case altrimenti in questo momento le persone dovremmo chiederci ma perché investire o comprare una seconda casa a Giulianova piuttosto che un comune limitrofe dove la città è più pulita i servizi costano meno la raccolta ai rifiuti è più efficiente quindi un altro dei nostri obiettivi è quello di migliorare la raccolta di spendere di meno e di lasciare la città più pulita prima degli appelli finali cerchiamo di raccogliere nel prossimo intervento altri temi importanti con una grande proprietà di sintesi vi chiedo da questo punto di vista sanità il tema dell'ospedale il project financing a che punto siamo il tema della sicurezza il tema ad esempio anche dell'aspetto sociale di una città che ha anche le sue periferie viene in mente anche il tema della pesca però poi lì si entra ancora più nel dettaglio iniziamo da Arboretti dunque sulla sanità siamo usciti proprio oggi con un comunicato e noi proponiamo ed è una lettera aperta praticamente al governatore Marsiglio e all'assessore della sanità Veri e cioè di rimettere in piedi quel tavolo che comunque era stato concesso dal governatore precedente d'Alfonso in cui il comune di Gionola dovrà essere presente un tavolo di confronto per quanto riguarda l'assetto della rete provinciale ospedaliera noi proponiamo una cosa quattro ospedali non sono più sostenibili e soprattutto non garantiscono la qualità di cui necessita la popolazione terramana che è di circa 310 mila abitanti più i turisti che durante l'estate accogliamo nella costa provinciale terramana che è la più importante per quanto riguarda il numero delle presenze di tutto l'Abruzzo noi crediamo che i grandi ospedali per esempio Termo 600 posti letto e Giulianova 500 posti letto o 450 circa perché sono quelli previsti con gli standard ospedaliari del decreto Lorenzin farebbero arrivare primari di scuole importanti perché quei primari per 100 posti letto non vengono si iniziano delle scuole locali importanti e avremmo soprattutto la casistica questo è quello che necessita la casistica perché ovviamente l'esperienza la competenza sia in base alle conoscenze e anche in base specialmente negli atti chirurgici in base alla manualità 10 interventi o 100 fatti in un anno da quel chirurgo fanno la differenza allora o si riflette su questo e si mette mano anche ai 77 milioni di euro di mobilità passiva che ogni anno la Aslo di Teramo paga gli ospedali che si trovano in altre Aslo o soprattutto fuori regione a partire dalle Marche 77 milioni di euro si rifletta bene ogni anno questo assetto ospedaliero che noi conosciamo questo dà sono i viaggi della speranza della salute noi dobbiamo mettere in piedi due grandi ospedali uno sulla costa ovviamente a Giulianova perché è baricentrico e l'altro a Teramo ovviamente e quindi quelle risorse vanno impiegate in questa maniera facendo due grandi ospedali di primo livello perché questo darebbe il meglio da un punto di vista finanziario dalla sostenibilità finanziaria dal punto di vista della qualità degli interventi del diritto alla salute anche perché bisogna prevedere quei 300 posti letto che attualmente mancano negli assetto ospedalieri che noi abbiamo per acuti e non si può creare liste d'attese per gli acuti se uno ha un appendicito acuta rischia di andare in peritonide se non si opera d'urgenza e quindi si salva il paziente o meno per quanto riguarda il discorso diceva della sicurezza noi siamo esattamente contrari a quello che propone la Lega Giulianova e cioè un aggiornamento delle ronde padane che ci mette un pochettino di brividi e ci mortifica la città perché vedere gente che da volontari si mette in divisa fa i corsi di autodifesa e poi dopo va in giro per la città per controllare che cosa non si capisce a noi sembra una situazione di regime noi siamo perché si coordini perché il sindaco è il capo della sicurezza Giulianova in tutte le città di mettere insieme un tavolo di incontro con i carabinieri tutte le forze dell'ordine che esistono a Giulianova per poter fare un piano d'azione preventiva e di repressione utilizzando anche pienamente la videosorveglianza che va monitorata perché se uno ha la videosorveglianza che non funziona non viene controllata ovviamente non serve a niente tutto quanto questo potenziando anche la polizia municipale e auspicando che a livello nazionale il ministro degli interni Salvini potenzi i finanziamenti cosa che invece sono stati tagliati nella prima finanziaria che hanno fatto per quanto riguarda appunto le forze di polizia Tribuiani sanità e sicurezza ovviamente anche a lei è concesso come si suol dire sforare un tantinello bene inizio dalla sanità allora per quanto riguarda la sanità è una materia di competenza regionale quindi per quello che può fare quindi vada chiarito perché viene strumentalizzata sempre la sanità all'ospedale di Giulianova ma in realtà non è di competenza del sindaco se non in quanto fa parte del comitato ristretto dei sindaci su provinciale per quanto riguarda l'ospedale quindi tutte le città dove ci sono dei presidi quindi per quanto riguarda l'ospedale io quindi fatto questa premessa quindi che non è una materia riservata ai sindaci se non limitata a questo aspetto faccio questa considerazione a me piuttosto che sapere se non mi interessa da cittadino non mi interessa sapere se l'ospedale mi sta a un chilometro a tre chilometri o a dieci chilometri l'importante è che le persone siano competenti e io pretendo il migliore servizio quindi la situazione la vedo quindi da comune cittadino come una qualità di servizio quindi questo sarà di competenza della sanità della regione dell'assessore Verì trovare le migliori soluzioni per quello che sarà l'ospedale di Giulianova io posso dire che essendo l'assessore Verì comunque della Lega ho avuto modo il piacere di conoscere la settimana scorsa ma ha garantito tutto il massimo supporto e sostegno aiuto per risolvere quelle che sono le problematiche dell'ospedale di Giulianova ma in termini di miglioramento di qualità del servizio di quello che è già in essere di quello che si può ancora migliorare o fare per colmare alcune carenze però ci limitiamo arriviamo qui poi ci fermiamo perché non è di competenza dei sindici e non è corretto andare oltre perché si farebbero delle promesse senza senso invece vorrei approfittare quindi di un po' più di spazio sulla sicurezza perché è stata interpretata probabilmente male il mio messaggio e quindi ho l'opportunità di chiarire la sicurezza io vivo a Giulianova faccio questa premessa vivo a Giulianova e vado spesso anche a piedi oltre che di corsa perché chi mi conosce lo sa ma chi non mi conosce sa che la mia grande passione la corsa e quindi sono un maratoneta e preparo le maratone quindi faccio parecchi chilometri sulle vie cittadine quindi lo scorso anno giusto per dare un'idea ho fatto ho corso circa 3.000 chilometri tra gare e allenamenti di cui gli allenamenti la fanno da padrona sono circa 2.000 e rotti chilometri li ho fatti nel comune di Giulianova quindi so bene io vado in giro per Giulianova a differenza di altre che non ho mai incontrato per Giulianova quindi so quali sono le problematiche so quali sono le criticità ad esempio noi abbiamo la strada che collega il Lido al paese le cosiddette salite a Montegrappa le scalette dove io spesso passo per allenamento o anche a piedi perché ho i miei genitori che abitano la parte alta io abito la Lido e mi trovo a imbattermi in persone che si drogano oppure che molestano delle signore questo più di una volta quindi le telefonate rimangono inascoltate anzi se si chiamano gli organi competenti ma chi sei perché telefoni quindi non c'è un pronto intervento quindi io avverto dalle esigenze quindi dalle persone che incontro per strada c'è questo senso di insicurezza e ovviamente per fortuna non siamo arrivati a livelli di città che non voglio citare perché Giulianova è piccola quindi anche la problematica è diversa diciamo così per fortuna non siamo in una situazione particolarmente critica però quello che voglio fare io non ci voglio arrivare voglio prevenire e curare quello che c'è perché non ci possiamo nascondere dietro un dito senza dire che ci sono alcuni quartieri di Giulianova soprattutto quello dell'Annunziata dove il problema della sicurezza c'è e come quindi il problema delle scalette il problema delle persone che sporcano le strade ieri sono passato nella zona centrale via Nazario Sauro c'era il sottopasso era piena di cacca di cani cioè una cittadina turistica come Giulianova una cosa del genere non si può tollerare allora come fare noi abbiamo dato la ricetta primo come fare quindi in primis dotare il sistema di videosorveglianza i punti strategici della città quindi cominciando dai luoghi più frequentati quelli turistici o i quartieri più a rischio ad alta definizione quindi questi sono strumenti però passivi quindi significa che posso agire dopo casomai per individuare eventuali responsabili di qualche reato oppure anche di comportamenti incivili due la collaborazione ovviamente con le forze dell'ordine con la Polizia Municipale che però ci troviamo a che fare con un corpo comunque diciamo limitato per cui non possiamo pretendere che i vigili urbani vadano a controllare le defezioni canine oppure del proprietario che sporca e non raccoglie la cacchia dei cani quindi non possiamo pretendere questo anche perché la Polizia Municipale adesso deve assolvere ad altri compiti che in passato non aveva ci troviamo quindi un corpo di Polizia Municipale che di notte deve uscire senza nessuna arma di difesa di questi tempi io sfido cioè prima di tutto queste persone questi professionisti sono anche padri mariti o mogli quindi hanno una famiglia quindi io mi preoccupo anche per la loro incolumità io alcuni di loro li ho ascoltati li ho incontrati e loro hanno avvertito questo tipo di esigenza quindi quello di dotarsi di un qualche strumento di difesa personale soprattutto nelle ore notturne poi chiudo con gli osservatori volontari della sicurezza questo è un progetto che ho ideato e ho ricevuto parecchie domande anche da città del nord a carattere leghista perché hanno trovato molto intelligente la mia proposta la mia proposta qual è? non si tratta di ronde quindi sono osservatori volontari della sicurezza regolarmente istituiti al Ministero dell'Interno quindi si tratta di volontari io farò una graduatoria li attingerò dai disoccupati ho avuto già la disponibilità di alcune persone ci sono tanti disoccupati in giro per Giulianova mettersi una divisa e girare per la città fare una camminata fa bene alla salute e nello stesso tempo sono queste persone che possono controllare chi veramente sporca la città chi porta i cani a passeggio e non raccogliere le defezioni canine chi butta l'immondizia o le lattine sui parchi come è successo ieri sul lungomare e non le raccoglie quindi possono semplicemente denunciare comportamenti incivili quindi se queste poi ripeto a costo zero per la collettività perché me ne assumo io l'onere di organizzare il servizio e di pagare il servizio questi volontari quindi saranno dei disoccupati matureranno un credito amministrativo cioè in base alle loro ore che loro prestano questo servizio quindi ci guadagnerà la salute e guadagneranno dei crediti amministrativi quindi un domani se il comune dovrà verranno premiati queste persone perché io penso che chi vuole veramente bene a Giulianova non lo dice solamente a parole ma lo fa con i fatti quindi è un gesto di secondo me di civiltà perché al controllo passivo delle telecamere ci deve essere il controllo attivo sul territorio altrimenti tutte le ricette non funzionano siamo agli appelli finali vi chiedo brevità assoluta perché siamo andati anche oltre il tempo un paio di minuti appelli finali per l'arborico comincio io allora io direi ai cittadini giuliesi di stare molto attenti qui abbiamo avuto la prova provata di una incapacità di governo e dal centro-destra e dal centro-sinistra negli ultimi vent'anni e anche qualcosa di più attualmente si ripresentano di nuovo sotto nuove spoglie comunque pezzi di centro-destra all'interno della coalizione che sostiene il candidato Tribuiani che hanno già operato abbondantemente perché la Lega è soprattutto formata da tanti esponenti di alleanza nazionale allora l'alleanza nazionale che stava dentro le giunte Cameli e anche pezzi di centro-sinistra come abbiamo avuto modo di dire precedentemente questo accade anche nella lista nel polo civico di Costantini dove c'è appunto soprattutto centro-sinistra che ha gestito fino all'altro giorno la città quindi qui non c'è c'è una conferma del vecchio voglio dire al di là delle buone intenzioni del candidato Tribuiano che abbiamo sentito ma lì dentro dovrà fare i conti con queste persone con questo personale politico noi siamo nati proprio in risposta per dare una risposta a questo fallimento a questo malgoverno che c'è stato negli ultimi vent'anni e che hanno portato questa amministrazione alla decadenza attuale della nostra città ed è una cosa non più tollerabile ormai non più accettabile e quindi vorremmo mettere in guardia i giugliesi che la proposta vera è quella per il cambiamento ma il cambiamento giustamente può essere anche un peggioramento delle condizioni attuali quindi non cadiamo dalla padella alla brace il cambiamento deve essere quello che finalmente ci porta sulle strade del buon governo per far rinascere in maniera veramente seria in tutti i settori la nostra bellissima città e quindi diciamo che bisogna stare attenti perché sotto le spoglie del cambiamento o comunque insomma le sirene del cambiamento ci sono due minacce c'è una destra che a noi pare reazionaria che è quella attrazione leghista che a Giulianova non ha nessuna tradizione non capiamo per quale motivo debba essere votata e poi c'è la destra che invece ha messo in piedi con esponenti che hanno seri problemi di conflitti di interesse dentro le varie liste che hanno a che fare col polo civico di Costantini dove naturalmente noi intravediamo che cosa una seria minaccia dei poteri forti locali per quanto riguarda forse un modello urbanistico che sa molto di speculazione edilizia che potrebbe tagliare segare il ramo su cui noi siamo seduti soprattutto sotto il profilo del turismo che abbiamo detto prima ha bisogno della qualità ambientale e quindi noi facciamo un appello dicendo ai cittadini giuliesi questa volta stiamo molto attenti vediamo in mano a chi ci mettiamo affidiamoci a chi ha una storia a chi ha una competenza a chi ha la politica del fare in testa ma del fare bene perché per fare bene ci vuole appunto la cultura politica adeguata attrezzata e noi abbiamo sicuramente il programma più moderno per la città Trebuiani Sì Io rivolgo un appello a tutti i cittadini giuliesi a a informarsi innanzitutto a chi sono i loro candidati sindaci perché il sindaco all'irà degli schieramenti diciamo nelle elezioni amministrative il candidato sindaco il futuro sindaco ha molta autonomia decide l'indirizzo politico economico della città e comunque sceglie anche la sua squadra per quanto riguarda gli assessori per cui per cui io non ho firmato nessuna cambiale in bianco con nessuno quindi non non devo dar conto a nessuno la politica della Lega anche se sono espressione di tutto il centro-destra è chiaro che all'interno della mia coalizione ci sono persone che hanno avuto esperienze politiche in passato ci mancherebbe altro ma questo per noi è una risorsa abbiamo diverse corrente politiche anche chi la vede in modo differente all'interno della nostra coalizione ma sempre con per noi è una ricchezza è una diversità su cui noi appunto abbiamo costruito il nostro programma e quindi fa da contrappeso un po' a quelle che sono le forze della nostra coalizione noi facciamo un appello a tutti i cittadini di informarsi bene chi è il proprio candidato sindaco dell'amico che gli andrà a chiedere il voto perché la strategia che è stata messa in atto da una lista civica in particolare con sei liste è quella di mettere tante persone per cui è una regola aritmetica ogni persona va a chiedere il voto ai propri familiari e questo porta voti al candidato sindaco allora io dico ogni elettore ha il dovere quindi sia questa facoltà di voto è un diritto fondamentale ma ha il dovere di informarsi chi è il candidato sindaco e che cosa vuole fare quindi chiedete a chi vi viene a chiedere il voto per amicizia o per parentela è la cosa più sbagliata che c'è perché una persona dovrebbe agire secondo coscienza e secondo non il programma che viene stilato ripeto molto spesso io l'ho fatto con le mie mani ma alcuni gli hanno fatto copia e incolla da altre zone che non sono non da Giulianova quindi piuttosto che vedere i programmi quello che conta è la credibilità delle persone che poi effettivamente siano in grado di rispettare quello che dichiarano noi abbiamo pubblicato il nostro programma la mia figura ripeto è una figura scelta innovativa esce fuori dagli schemi è una scommessa che viene in primis dal ministro Matteo Salvini dalle sue indicazioni giovedì sarà Giulianova avrò il piacere di riceverlo sia in occasione dell'europea ma anche perché mi sostiene e ci tiene tanto ad avere un sindaco Giulianova un sindaco leghista sarebbe veramente un qualcosa di clamoroso se sappiamo la storia di Giulianova ma noi veniamo fuori da un consenso molto elevato Giulianova è tra i comuni abruzzesi sopra 15.000 abitanti il risultato migliore la Lega l'ha avuta a Giulianova col 35,22% quindi i giuliesi hanno capito qual è la vera forza di cambiamento quindi io mi rivolgo a tutti i cittadini giuliesi magari date anche la preferenza al vostro candidato amico o parente ma votate Tribuiani sindaco perché in questo momento è l'unica persona in grado di poter veramente cambiare con la serietà l'onestà la competenza e le capacità le sorti di Giulianova che qui non si scherza più bene chiudiamo e ringraziamo i due candidati a sindaco di Giulianova che hanno accolto ripetiamo il nostro invito per questo appuntamento con una speciale elezione dedicato alle amministrative appunto di Giulianova si vota anche qui come sapete il 26 maggio ringraziamo allora Franco Arboretti sostenuto da Cittadino Governante Giulia Viva con Franco Arboretti e per Giulianova con Franco Arboretti sindaco grazie Arboretti in bocca al lupo in bocca al lupo anche Pietro Tribuiani candidato del centrodestra appoggiato da Lega Fratelli d'Italia Idea e Forza Italia grazie a Tribuiani ricordiamo che abbiamo invitato ma non hanno accolto il nostro invito altri tre candidati a sindaco Giulianova sono Gabriele Filipponi candidato del Partito Democratico Iuan Costantini candidato per un gruppo di liste civiche ex dirigente di Forza Italia e Mauro Di Cricenzo candidato per il Movimento 5 Stelle ed è davvero tutto grazie a tutti voi per la cortese attenzione buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti